Grazie Giovanna, dunque le 5 città della nostra provincia e vedete questa foto, è una foto che è stata realizzata naturalmente a Roma dove sono state consegnate queste bandiere blu a tutti i sindaci, vedete sulla destra c'è Mario D'Asta, Mario D'Asta sarà presente più tardi dopo questo telegiornale alle 22.30 e poi nelle repliche nella rubrica di salvagiture iudice, senti chi parla e parlerà di raccolta dei rifiuti dove noi siamo pare al top, ma parlerà anche della bandiera blu, dell'acqua e degli altri, li vedete il signor Di Modica, l'assessore Monte, Scicli che rientra ora con San Pieri e il Pisciotto, quindi sono posti belli, ora io però la battuta l'ho fatta ieri, ma è rivolta ad altri, non è alle nostre 5 città perché soprattutto Ragusa è da prima di Piccitto, non so se era ai tempi di Nello, dai primi giorni della bandiera blu via via si sono aggiunti gli altri, ma magari vediamo che ci sono i servizi che sono richiesti, perché la bandiera blu non è soltanto perché l'acqua è buona, la bandiera blu deve avere intorno tutta una serie di servizi, almeno così mi sembra, deve essere davvero una spiaggia fruibile per i bambini, per tutto, deve essere la doccia, le cose, io ho visto in alcune immagini che su pezzi di spiaggia abbiate sotto il costone della strada, senza neanche sporche, dice vabbè ancora non è estate, d'accordo, però non vorrei che oggi la bandiera blu, siccome ha avuto una certa importanza, la stanno regalando, mi informerò o meglio se la regalano è una cosa buona, non ai nostri 5 comuni, ma se la regalano, ma se però invece di regalarla c'è qualche cos'altro, non è una bella cosa. E ora ce ne andiamo a parlare di donne con l'associazione FIDAPA che oggi ha festeggiato i 45 anni dalla fondazione, quindi c'erano tante simpatiche signore oggi nell'aula consigliare del Comune di Ragusa hanno iniziato cantando l'inno nazionale, vediamo le interviste.